VOL! 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 c'è già una fuga, un atleta si è già staccato dal gruppo, un atleta mi sembra Andrea Rigone in fuga, c'è nata una fuga sin dalla partenza mi sembra Andrea Rigone ecco ancora non riesco a distinguerlo, o Andrea Rigone o Edoardo Compagnoni ecco il gruppo si è già spaccato in tanti tronconi, ecco i primi contraattaccanti mi sembra Andrea Rigone, Fenaroli nelle primissime posizioni andare all'attacco che numero vedi qui davanti? vedi qualche numero? no i numeri no, non riesco, mi sembra per adesso tira a Diego Fenaroli e dietro c'è Andrea Rigone ecco il gruppo si è già spaccato in due e tre tronconi abbiamo ancora il gruppo dei contraattaccanti eccovi qui ci sono una ventina di atleti che si sono staccati dal gruppo abbiamo un uomo in fuga avrà un minuto sui primi contraattaccanti ecco Fenaroli che tira il gruppo dei contraattaccanti vedo Andrea Rigone 47 il primo? ecco eh? si e il secondo? il secondo aspetta è il 47 che sta tirando adesso ecco ecco stiamo seguendo ancora il primo gruppo dei contraattaccanti un uomo è partito a bomba ecco ecco qui seguiamo sempre il primo il primo gruppo dei contraattaccanti ma vedo che si sta frazionando anche il gruppo dei contraattaccanti adesso c'è ecco ecco